Allora ragazzi questo è il nero di fina, guardate che nero nero, già il conto ha buttato gli spaghetti, questa è una paelia che stiamo cucinando, guardate che meraviglia ragazzi, guardate che meraviglia, voi come la fate la paelia con le verdurine, il pesce, guardate che meraviglia, e niente tra poco andiamo di là a cenare questo doppio primo, che meraviglia. Chi sta assaggiando? Ma si è cotta, non si è assaggiata la pasta, guardate che bella ragazzi, guardate, a voi piace la paelia? La paelia, ma come si dice paelia? La doppia L in spagnolo si legge G L, paella, giusto ragazzi, è come dice il conto oppure si dice paella? La doppia L in G L, si è proprio la paella. Guardate che meraviglia ragazzi, guardate che meraviglia, vabbè meraviglioso anche il nero di fina giustamente, mamma mia sarà buonissimissimissimo, guardate ragazzi lei è quasi pronta, il conto ha sceso la pasta, guardate il nero di fina ragazzi, ma è il nero 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 nero, guardate, inchiostro puro, guardate guardate che meraviglia, brava e fina, ma non sono da cofai i pensimi di nuovo, ora andiamo di là ragazzi e ceniamo queste due meraviglie insieme e subito dopo live vi ricordo, su tiktok entrambi i profili e poi facebook, quindi andiamo di là a cenare e poi live. ragazzi tutto qui, ora componiamo i piatti e ceniamo subito insieme, scelta, no vabbè la sciccheria di quest'uomo, scelta ditemi se non è un piatto da ristorante, ditemelo, anzi facciamo una cosa, ecco ora è da ristorante, scelta, vabbè scendiamo insieme, guardate quella del conte buona scena scelta, io comincio con un po' di riso, buona scena, io devo assaggiare questa meraviglia di fina buonissima, guardate che io sono un critico nella cucina, spettacolare, brava e fina fallo sempre, fina fallo sempre brava, fina, scusate tendineri, brava, fina, veramente buono, vabbè ragazzi, a troppo a quel live, buona cena